in diverse iniziative, soprattutto ci stiamo impegnando per promuovere nuovi progetti di sostenibilità. Questa iniziativa che spirito ha? Noi semplicemente domani e dopodomani andremo a proporre un primo evento, il Mercato Scoperto, che nei prossimi mesi la nostra intenzione sarebbe quella di far diventare questo evento un'associazione permanente, dallo stesso nome, finalizzata a ricreare micro filiere che promuovano un nuovo modello di sviluppo e che promuovano prodotti a chilometro zero, a basso impatto ambientale e via dicendo. Il Mercato Scoperto dovrà divenire un evento ricorrente, ci piacerebbe che fosse a cadenza mensile, dovrà coinvolgere i produttori della zona e dovrà soprattutto essere un evento itinerante, cioè di mese in mese spostarsi da un quartiere all'altro di Ranciano sia in centro che fuori dal centro.